Noi fino all'ultimo abbiamo chiesto sia a Lega che a Casa Pound di fare un accordo con noi e ognuno dei due per ragioni loro ci hanno detto di no, a quel punto non è che abbiamo avuto molta scelta purtroppo è andata così, poi c'è stata la sorpresa a Benussi che noi non ci aspettavamo anche perché non ci ha mai contattato, quindi un ulteriore fattore di divisione sicuramente. Il sindaco Spagnoli ha già dichiarato adesso visto che c'è il ballottaggio bisognerà allargare questa coalizione sicuramente dovrà farlo per riuscire a vincere, voi cosa farete? Beh allora adesso qui ci sono alcuni scenari interessanti, la commedia della politica non succede prima, succede dopo Allora lui ha fatto finta di litigare con la sinistra, ha fatto finta perché è chiaro che loro lo appoggeranno questo bisogna vedere in cambio di cosa, poi c'è anche l'exploit di Genaccaro che è insomma l'area un po' di centro e quindi bisogna vedere chi offre di più